Buon pomeriggio, benvenuti all'edizione delle 13.30 del notiziario di AM Eterni Television che apriamo parlando del progetto Stadio Clinica che a quanto pare si può fare, infatti la delibera della Giunta regionale toglie una volta per tutte i dubbi nati intorno all'operazione che aveva promosso la Ternana Calcio, facciamo il punto nel servizio. Con la delibera della Giunta regionale e riorganizzazione della rete ospedaliera regionale a seguito del parere positivo espresso dal Ministero della Salute rispetto alla proposta trasmessa dalla Direzione Sanità Umbra alcuni mesi fa e che riguarda tra l'altro la riorganizzazione degli ospedali a relativi fabbisogni, si apre definitivamente il progetto Stadio Clinica promosso dalla Ternana Calcio. All'interno del dispositivo c'è un passaggio che interessa eppure tanto Terni e la Ternana, oltre ovviamente al progetto dell'ospedale. È quello che parla di posti letto pubblici e privati e cita, individuando in ottanti posti letto da destinare a strutture private accreditate e convenzionate nella provincia di Terni, fissandone anche gli ambiti di intervento che vanno dalla medicina generale alla riabilitazione e rieducazione funzionale. Un passaggio letto dei più come fondamentale che dà il via libera all'operazione Stadio Clinica, avviata dall'allora proprietario e presidente del Club Rosso Verde Stefano Bandecchi, ora sindaco di Terni, e portata avanti dalla project manager Sergio Anibaldi. Il passaggio in questione valida, senza più alcun dubbio, la procedura individuata sfruttando la legge sugli stati, la prima in Italia a concretizzarsi. E adesso cosa succede? La palla passa al comune, che informerà la Ternana Calcio, ovvero la società proponente dell'operazione stadio-clinica, sia dell'avvenuta approvazione da parte dell'amministro che della conseguente delibera regionale. La società di via della Bardesca può appaltare i lavori per la realizzazione del nuovo stadio e di conseguenza quelli della clinica, l'elemento compensativo per la copertura dell'investimento privato. Da quando è stato presentato il progetto ad oggi è cambiata la proprietà della Ternana Calcio, ed oggi l'operazione non sembra più incappare nella tagliola dell'incompatibilità. L'area dove dovrebbe sorgere la clinica è stata sceduta all'unicusano, che per voce del sindaco si è detta pronta a metterla a disposizione di colui che vorrà costruire stadio e appunto clinica. A proposito, sempre il primo cittadino ha fatto sapere che se la Ternana non volesse o potesse andare avanti, allora Palazzo Spada è pronta ad indire un bando europeo. Insomma, la volontà di portare a casa un nuovo libero liberati e una clinica privata c'è ed è più vivo che mai. Ora non resta che attendere una risposta ufficiale da parte di Nicola Guida, il nuovo presidente della Ternana Calcio, che a questo punto può passare alla storia come colui che costruì il nuovo stadio. Un bel vanto, nulla da dire. Il progetto stadio clinica quindi è realizzabile, ma da realizzabile a realizzato la strada è ancora lunga e irta di ostacoli. In questo momento è scattata la corsa politica ad accaparrarsi i meriti della fattibilità di questo progetto che a Terni è in dubbio regalerebbe una svolta importante sul piano del riequilibrio sanitario regionale. Facciamo il punto. Disco verde dalla regione per il progetto stadio clinica a Terni, progetto che apre finalmente le porte a un riequilibrio sanitario territoriale in Umbria da troppo tempo atteso e ora, come sembra accade in politica in questi casi, è tutta una corsa ad accaparrarsi i meriti del risultato raggiunto, un esercizio al quale nessuno si sottrae. A iniziare da Bandecchi, che con il solito stile che lo contraddistingue, ha immediatamente gonfiato il petto e ha fermato. Sono stato deriso quando ho presentato il progetto, ora che si può fare dico state tutti zitti. Bandecchi nel dire ciò dimentica però, forse volutamente, un passaggio fondamentale. Ora è sindaco di Terni, non più presidente della Ternana, e il progetto stadio clinica non può realizzarlo, anche se il terreno dove dovrebbe sorgere la struttura sanitaria e di proprietà dell'Università Unicusano. Quindi dovrà farsi parte attiva per governare da superpartes un processo non semplice, che in prima battuta chiama ora in causa l'attuale proprietà della Ternana, che se non fosse, come sembra interessata al progetto, dovrà poi passare necessariamente attraverso un banto pubblico europeo. Il progetto stadio clinica, insomma delineato su carta, dovrà ora trovare gambe solide per giungere a destinazione. Ma ora è il momento del viva, viva! E dopo Bandecchi, cappello politico sulla svolta umbra di riequilibrio sanitario territoriale, lo mette decisamente il centrodestra. Grazie all'impegno della presidente Tesei e degli assessori regionali della Lega, Luca Coletto ed Enrico Melasecche, viene finalmente attuato quel riequilibrio territoriale sanitario, per cui stiamo lavorando da tempo. È il commento congiunto dei segretari provinciali e comunali della Lega, Davide Veller e David Maggiora, e del responsabile comparto sanità della Lega, Sergio Arminley. L'ok del Ministero della Salute al piano di riorganizzazione è un passo avanti fondamentale per il territorio, portato a termine anche grazie al determinante contributo di Fratelli d'Italia, che ha lavorato sia a livello locale che nazionale grazie ai suoi rappresentanti al governo, in particolare con il senatore Franco Zaffini, presidente della Commissione Salute del Senato. Così si esprime Eleonora Pace, capogruppo regionale di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione Sanità. A Terni commenta infine Francesco Ferranti, capogruppo di Forza Italia in Comune, si potrà finalmente realizzare la più grande clinica privata dell'Umbria. Ma c'è un unico problema che potrebbe mettere a repentaglio tutto, ovvero che l'area dove dovrebbe sorgere la clinica è rimasta nella proprietà di Unicusano. E qui torniamo al punto che avevamo sottolineato in precedenza. Il sindaco Bandecchi è disposto a giocare un ruolo positivo e super partes per regalare a Terni una svolta da troppo tempo attesa? Staremo a vedere. Una petizione sottoscritta da quasi 600 cittadini attraverso la quale si richiede una maggiore sicurezza e controlli in città è il documento che è stato inviato dall'avvocato Antonio De Angelis al sindaco Stefano Bandecchi, al prefetto e al questore, focalizzando l'attenzione sul fenomeno delle baby gang che è rimbalzato all'attenzione dei media nazionali. L'iniziativa, spiega l'avvocato De Angelis, è spontanea e scattata a seguito di alcuni episodi che si sono verificati in città negli ultimi mesi. È stata promossa da diversi genitori preoccupati per i loro figli adolescenti. Tuttavia il tema della sicurezza, precisa ancora il legale, è sentito da tutti quanti. La frequenza di episodi è in crescita. Episodi, tra l'altro, sottolinea l'avvocato De Angelis, che si verificano principalmente nel centro cittadino. L'auspicio è che tutte le istituzioni pongano in essere le attività necessarie affinché Terni possa tornare a essere una città sicura. 46 milioni e mezzo di euro per la viabilità e oltre 14 milioni per l'edilizia scolastica. Questi sono i principali investimenti della provincia di Terni. E a fare il bilancio di fine anno è stata proprio la presidente della provincia, Laura Pernazza. Vediamo. 46 milioni e mezzo di euro per la viabilità nel periodo 2023-2029 ed oltre 14 milioni per l'edilizia scolastica. Sono questi gli investimenti finanziari più importanti della provincia di Terni sui settori chiave dell'amministrazione. A renderli noti, la presidente Laura Pernazza nella conferenza stampa di fine anno svoltasi in sala del Consiglio. Sono molto contenta. Questo è un anno che si chiude molto positivo per quest'ente. Grazie alla grande attività che gli uffici hanno fatto su varie fronti vorrei mettere in evidenza soprattutto gli investimenti sulla rete stradale. Nei prossimi sei anni saranno 45 milioni di euro gli investimenti sulla viabilità sia regionale che provinciale e sui 650 km di strade. 21 edifici scolastici che sono stati oggetto di ristrutturazione e di risanamento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, antincendio. Quindi tante opere che mettono in sicurezza i nostri giovani. Tra i quali il Metelli che era chiuso da tempo. Tra i quali il Metelli che a settembre è tornato a vivere con tutti i ragazzi che hanno potuto fruire quindi di una scuola che è stata migliorata sotto il profilo dell'antincendio. Anche lì oltre 14 milioni di investimento. Un anno che si chiude quello del 2022 tra l'altro con un avanzo di amministrazione di 2 milioni 800 mila euro che ci ha consentito di mettere questi soldi più o meno per la metà sulle scuole e per la metà sulla rete viaria che ha tanto bisogno di manutenzione ma che a piccoli passi stiamo intervenendo per dare anche un segnale di importanza sulla sicurezza stradale. Non cala l'attenzione dell'ente nemmeno su ponti e viadotti il cui censimento su quelli con luce superiore ai 6 metri è già concluso. Avviato poi un ufficio di avvocatura interna e un ufficio Europa che servirà per intercettare i finanziamenti comunitari. Infine su Villa Lago la Presidente ha ricordato che la provincia ha provveduto alla disdetta per inadempienza nei confronti del gestore che c'è attualmente un contenzioso in atto per via del ricorso dei gestori stessi. Vedere rifiorire Villa Lago è uno dei cruci che insomma in qualche modo è un obiettivo della mia amministrazione. Vorrei vedere Villa Lago tornare a rifiorire come era negli anni passati. Questo è un mio obiettivo. A Largo Villa Gloria a Terni è aperto il gazebo di giocattoli in movimento, iniziativa del Movimento 5 Stelle per raccogliere e distribuire giocattoli e libri usati con l'obiettivo di invitare al riuso e dare una mano ai genitori a risparmiare. Ecco il servizio. Arriva anche a Terni giocattoli in movimento, iniziativa del Movimento 5 Stelle che coinvolge decine di piazze italiane per la raccolta e la distribuzione di giocattoli usati. L'iniziativa nasce per valorizzare l'economia circolare, ridurre la produzione di plastica ed evitare che tanti giochi ancora utilizzabili finiscano in discarica, spiega il Movimento 5 Stelle Terni. Si tratta di una iniziativa che si svolge da vari anni a livello nazionale, che abbiamo fortemente evoluto qui a Terni perché i bambini, che sono appunto il nostro futuro, devono essere sensibilizzati al fatto che i loro giochi, una volta che loro hanno esaurito la loro funzione, possono essere riutilizzati da qualcun altro e si può evitare di mandarli in discarica. L'obiettivo è sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza del riuso e dare una mano ai genitori a risparmiare. Portando giocattoli o libri usati al gazebo di Largo Villa Glory, in cambio, si potrà prendere un altro gioco a scelta. Unico requisito, i giochi devono essere integri e utilizzabili. Il gruppo territoriale che si è da poco costituito, queste salate a Terni, è molto attivo, porta avanti varie iniziative e in occasione della prosecuzione della raccolta firme per l'importante proposta di legge sul salario minimo, siamo orgogliosamente riusciti a portare anche questa iniziativa che il Movimento 5 Stelle in varie città d'Italia già attua da parecchi anni e finalmente abbiamo l'occasione di portare questo evento anche a Terni. Saremo qua per tre giorni con questa iniziativa a Largo Villa Glory. Apriamo adesso la pagina di cronaca perché un incendio in un capannone agricolo nella tarda serata di ieri ha spaventato una famiglia di una frazione di assisi che si è potuta mettere in salvo per fortuna senza conseguenze. È stata una segnalazione che ha consentito il rapido intervento dai vigili del fuoco e l'incendio è stato domato nel giro di qualche ora. Vediamo servizio. Un cortocircuito all'interno di un annesso agricolo è la probabile causa di un incendio che ha spaventato una famiglia di Tordibetto, frazione di assisi. Il fumo che si stava sprigionando dal capannone è stato avvistato da una passante che ha dato l'allarme consentendo l'immediato intervento dei vigili del fuoco. All'inizio la situazione sembrava essere allarmante data la presenza di due abitazioni proprio nei pressi del fabbricato in fiamme, ma proprio grazie alla tempestiva segnalazione è stato possibile evitare che l'incendio si estendesse. Le operazioni di spegnimento si sono completate in alcune ore e hanno richiesto la collaborazione anche della polizia locale, la municipale e la polizia di stato. La famiglia di origini indiane che risiede accanto all'edificio colpito dalle fiamme dapprima non si era accorta del fuoco, ma ricevuto l'allarme si è potuta mettere a riparo immediatamente e nessuno ha subito conseguenze. I tre bambini e il loro papà sono stati accolti nella casa dei vicini mentre l'incendio veniva domato. La mamma ha potuto riabbracciare i suoi cari al rientro dal lavoro. Per tutti solo un grande spavento. I carabinieri di Allerona hanno imposto il divieto di avvicinamento alla madre e il braccialetto elettronico nei confronti di un 44enne con precedenti di polizia per il reato di minaccia aggravata. La misura fa seguito a una denuncia querela sporta alcuni giorni fa proprio dalla madre 71enne dell'indagato che era stata minacciata ripetutamente con messaggi di morte. L'autorità giudiziaria ha svolte le indagini, ha adottato il provvedimento a protezione dell'anziana signora per scongiurare il pericolo di reiterazione della condotta illecita da parte del proprio figlio. Le città di Terni e Foligno piangono la scomparsa di Maria Teresa Pasquini, docente di letteratura e autrice di molti libri di letteratura latina per le scuole superiori. La professoressa Pasquini è scomparsa il 27 dicembre scorso. I funerali si terranno il prossimo 30 dicembre nella cattedrale di Terni a partire dalle 10 e 30. Sulle tavole di 8 italiani su 10 ci saranno le lenticchie a Capodanno come portafortuna per il prossimo 2024. A rivelarlo è un sondaggio della Coldiretti. Scopriamo quali sono le preferite da portare in tavola sia che siano combinate con lo zampone o con il cotechino. Vediamo il prossimo servizio. Nel menu del cenone in oltre 8 tavole su 10 sono previste quest'anno le lenticchie che sembrano portare più fortuna del chicco d'uva scelto nel 56% dei casi. È quanto emerge dall'analisi Coldiretti sul Capodanno degli italiani che puntano anche quest'anno sull'accoppiata vincente con il cotechino o lo zampone al quale non rinunciano bene il 70% dei consumatori. Particolarmente ricercate sono le lenticchie di Castelluccio di Norcia IGP ma anche quelle di Colfiorito sono particolarmente apprezzate. Nel 2023 in Umbria si sono prodotti 14.000 quintali di lenticchie per 2150 ettari di superficie. Un'annata la scorsa, spiega Gianni Coccia, vicepresidente della cooperativa della lenticchia di Castelluccio di Norcia, ricca di pioggia nel periodo primaverile che ci ha permesso di raccogliere un prodotto di qualità, ricco di proprietà benefiche, anche per questo sempre più apprezzato dai consumatori. Tra i piatti portafortuna a fine anno però non ci sono solo le lenticchie ma anche i chicchi d'uva, ne vanno mangiati 12, uno per ogni mese dell'anno e di buon auspicio sono anche i melograni, simbolo di riparo e protezione dai problemi che il nuovo anno potrebbe portare. E sorprendentemente portano fortuna anche gli spaghetti, a patto però, specifica la col diretti, di cucinarli interi senza spezzarli. Concludiamo così questa edizione del nostro notiziario, arrivederci alle prossime edizioni. Grazie.